Non mi piacciono i voti ma è corretto che dia una valutazione perché è stato un mercato che è stato costruito tre giorni dopo la partita col Brescia con un'idea specifica di come volessi giocare con le caratteristiche che cercavamo è stato fatto un mercato anche di prospettiva perché abbiamo preso dei giocatori under abbiamo fatto un mercato per rinforzare e alzare il livello di personalità della squadra ed è stato fatto poi come spesso vi dico le cose perfette non esistono qualche obiettivo che avevamo non siamo riciti a raggiungerlo ma complessivamente penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro la squadra è cresciuta sotto tanti punti di vista adesso con gli acquisti soprattutto gli ultimi fatti nell'ultima settimana 10 giorni dobbiamo compensare tutto questo in maniera molto veloce abbiamo da fare questa partita secondo me molto molto importante e poi avremo la sosta per ottimizzare anche le nuove risorse che sono appena arrivate hanno preso giocatori di esperienza come Cepitelli e Lamantia avevano già Sauda l'anno scorso hanno giovani interessanti una squadra che si muove bene in campo che ha concetti, che ha idee e di conseguenza troveremo un avversario pronto ma io penso che dentro i 95 minuti abbiamo le caratteristiche e tutto quello che serve per vincere questa partita e dovremo far vedere che la vogliamo vincere ecco perché punto tanto sul fatto di Reggio Emilia perché è questo che voglio vedere quest'anno troppe volte l'anno scorso abbiamo lasciato di mezzo prestazioni importanti quest'anno anche le prestazioni fra virgolette non pulitissime devono diventare qualcosa che porta a casa risultato ed è quello che chiedo alla squadra in termini di crescita guarda Di Francesco ha fatto un allenamento Coulibani non ne ha fatto nessuno di conseguenza è difficile vedere questi ragazzi dall'inizio perché non hanno mai lavorato con me dunque l'idea sul fatto che giochiamo 4 giorni dopo è di fare qualche variazione non grandissime cose aspettatevi qualcosa dall'inizio ma sui giocatori nuovi appena arrivati dall'inizio sicuramente no ma sui giocatori Grazie a tutti